Il selfie a bocca aperta diverte i fan Justin Bieber, il selfie a bocca aperta diverte i fan Il selfie è incomprensibile di Justin Bieber A volte il comportamento di Justin Bieber rimane un mistero impossibile da svelare Ci sono dei periodi in cui è irascibile se la prende con chiunque osi fare qualcosa che non gli vada a genio, e giorni in cui invece dice di essere una persona nuova e che Dio ha illuminato il suo cammino Altri ancora, in cui si comporta come un bambino dispettoso che vuole sono infastidire gli altri con i suoi atteggiamenti E forse in questo momento Justin Bieber si sente più affine a questultima descrizione, altrimenti non si capisce perché abbia dovuto pubblicare una foto su Instagram in cui mangia letteralmente a bocca aperta, con tutti pezzi di cibo sparsi sulle labbra e sulla faccia Un'immagine abbastanza disgustosa, che forse potrebbe essere comprensibile se inviata a qualche amico in privato per scherzare, ma non su Instagram, dove a vedere i suoi scatti sono soprattutto i fan Eppure la foto è piaciuta, con picchi di quasi un milione e mezzo di like e diverse incomprensibili richieste di matrimonio Voglia di sdrammatizzare il suo personaggio e dire al mondo Ehi, sono un normale ventenne cretino? Non lo sappiamo, ma di certo questa foto rimarrà impressa nelle nostre menti ancora per un po' anche se speriamo che non ci ritorni alla memoria durante le ore dei pasti Negli ultimi tempi i fan si sono molto interrogati sulla trasformazione di Justin Bieber La pop star, che soprattutto in questi mesi ha sbaragliato ogni record grazie alla sua collaborazione nel singolo dell'anno, Despacito, ha deciso di interrompere improvvisamente il Purpose Tour e rimborsare il costo dei biglietti Il motivo? Sembra fosse per il suo benessere psicologico, minato negli ultimi tempi dalla sua vita frenetica e senza un attimo di riposo Justin ha spiegato le sue ragioni in una lunga lettera ai fan su Instagram ma, nonostante le buone intenzioni, in tanti hanno dato addosso al cantante Primi tra tutti gli stessi personaggi fondamentali del mondo della musica, come Gene Simmons e Louis Tomlinson, che hanno giudicato incomprensibile e sconsiderata la scelta della pop star di interrompere il tour Non è raro per Justin Bieber compiere atti che apparentemente non hanno nessun senso almeno in queste ultime settimane Dopo aver interrotto il Purpose Tour ed essersi avvicinato moltissimo alla chiesa del pastore Karl Lenz, Justin Bieber ha chiuso i rapporti con uno dei suoi migliori amici, il pugile Floyd Mayweather Di punto in bianco il cantante ha smesso di seguire il boxer su Instagram e, qualche giorno dopo, ha parlato della necessità di mettere dei paletti tra loro Un atteggiamento di difficile comprensione, che forse mette radici in qualcosa che non riusciremo mai a comprendere Quello che si augurano i suoi fan, ovviamente, è che dopo questo periodo di pausa torni più forte di prima, e che soprattutto torni a intrattenerli con i suoi concerto tanto attesi in tutto il mondo Il periodo da bad boy sembra essere passato, ma chissà in quale nuova fase sta per entrare ora Justin Bieber Chissà in guida